buongiorno juventini buongiorno come va tutto a posto buona settimana buona settimana tutti quanti voi io sono un po acciaccato ma ci sta si sta si sta allora sono contentissimo che in queste notizie di calcio mercato che vi darò oggi parlerò principalmente non solo di loro ma dei due nomi di cui io sono stato credo uno dei primi a parlare ovviamente uno è Icardi e l'altro è Vlaovic perché vi parlerò di questi due giocatori perché Icardi è un pallino della Juventus da tempo e la Juventus può avere delle pedine di scambio può arrivare ad averlo l'altro è Vlaovic che ve ne parlai se ricordate a fine maggio nella prima puntata del calcio mercato TGI quella diciamo introduttiva e vi disse tenete d'occhio Vlaovic perché Vlaovic è un giocatore su cui la Juventus punta Cherubini il nostro nostro Cherubini il nostro nuovo diciamo DS è già al lavoro per cercare di portare quella punta centrale che vuole il nostro Massimiliano Allegri perché Massimiliano Allegri non prescinde dall'utilizzo della punta centrale ricorderete che lui utilizzava maggio che come apri porta per Di Bala o per Ronaldo addirittura poi usò Higuain no anche per apri porta per Ronaldo per Di Bala cioè la punta centrale Dio finalmente lo voglia perché veramente a noi ci è mancata in questi ultimi due anni è fondamentale è fondamentale è fondamentale ma l'altro non è la prima punta per me non è neanche una punta per me è un giocatore mediocre e quindi abbiamo veramente bisogno di quello che è il frangiflutti quello che si porta via l'uomo e apre spazi per gli altri. C'è una piccola 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 voce che mi dice che non è ancora diciamo tramontata l'idea Milik ma io personalmente se dovessi dire la mia credo che Milik alla Juventus non arriverà mai aggiungo per fortuna perché francamente dei tre nomi che vi ho fatto Vlauci, Icardi, Milik, Milik è quello di cui farei più volentieri a meno assolutamente. Mi auguro che non sia per l'ennesima volta la ruota di scorta così come accadde con Zeko, Suarez, Morata e arrivò alla ruota di scorta e abbiamo visto i risultati, giocatore che è stato praticamente buono per un paio di mesi poi è scomparso anche perché ha dei limiti oggettivi soprattutto mentali anch'esso, troppo debole mentalmente, si fa troppo condizionare dagli eventi esterni. La Juventus dovrà assolutamente puntellare l'attacco. Oltretutto aggiungo, vi dirò, che questa ricerca del centravanti sarà rivolta solo ad uno di questi che vi ho detto nel caso in cui rimanga Ronaldo perché nel caso in cui Ronaldo dovesse andare, perché vi ho dato conto più volte e lo ribadisco, che Ronaldo in questo momento mentre vi sto parlando è al 50% resta e al 50% va. Non è vero che Ronaldo ha già deciso di andare e non è vero che Ronaldo ha già deciso di restare. Ronaldo sta valutando i movimenti di mercato della Juventus perché troppe volte gli è stato promesso un rinforzo nella squadra a centrocampo e in altri ruoli del campo e troppo spesso Paratici non è stato in grado. Non so se non è stato in grado, non ha voluto, non mi importa. Non ha rinforzato la squadra in maniera tale da poter far competere la Juventus in Champions League. L'abbiamo visto perché se secondo voi nei tre anni passati di Ronaldo eravamo competitivi uscendo con Ajax, con Lione e con Porto evidentemente qualcosa è mancato. Giusto? Perché con l'Ajax c'era Allegri, non c'era uno Scacciacani. Con Lione c'era Sarri che non era proprio il numero uno del mondo ma non è neanche lui, non c'era uno trovato per strada. Quest'anno sicuramente aveva un allenatore che si potrebbe tranquillamente definire scappato di casa a livello di professionalità ovviamente mi sto riferendo. Però tant'è la Juventus in Champions League negli ultimi tre anni ha fatto delle figure pessime per non dire barbine. Quindi la Juve deve assolutamente puntellare l'attacco, deve metterci questa famosissima prima punta centrale che serve a tutto il gioco che dovrà sviluppare Allegri e quindi il casting è iniziato. Sono convinto che uno fra Icardi e Vlaovic, sempre che la Juve non ritorni all'antico, ma onestamente non vedo Zecco di ritorno alla Juve, a me personalmente piacerebbe, lo dico subito perché Zecco è uno che se gli dai il pallone ti apre spazi e te la butta dentro quando è il momento e poi è uno che in Europa sa giocare. Però ripeto, i nomi che sono sul tacquino di Carubini sono Vlaovic e Icardi, sono questi, non sono altri, assolutamente. Scordatevi i vari nomi Kane, Lewandowski, Benzema, scordateveli. Questi sono giocatori che hanno dei costi incredibili, pazzeschi, costano tantissimo, non c'è la possibilità di fare degli scambi. Quindi vi dirò di più, se resta Ronaldo è più probabile Vlaovic di Icardi, perché se Ronaldo va via, Icardi potrebbe essere proprio la pedina di scambio per dare a Ronaldo a Pagli San Germain, ma allora dopo la Juve dovrebbe prendere un'altra punta, perché un attacco a Icardi di Balla Morata secondo me non è così potente, anche se di Balla a destra, Morata a sinistra e Icardi al centro potrebbe essere, con i coadi uvati da Chiesa la Culosiesca e l'occorrenza, potrebbe essere un ottimo attacco, non stellare, ma un ottimo attacco. Per quello che riguarda il centrocampo vi ho dato conto che la Juventus cercherà di portare a casa due centrocampisti di qualità, i periferiti sono Locatelli e De Paul, De Paul non è facile da prendere, ci sono molte squadre su di lui, l'Udinese è un osso duro, ma anche questo Milinko Vizzavic di cui vi ho parlato, Milinko Vizzavic è un giocatore che Allegri ha messo al primo posto, giustamente. È chiaro che se Milinko Vizzavic, essendo un giocatore della Lazio, essendo un giocatore da trattare con lo dito, non dovessimo riuscire ad ingaggiarlo, chiaramente prenderò sempre più forza Locatelli e De Paul, anche se il Sassuolo sta facendo il giochino dai furbetti, nel senso che sì però ve lo diamo, ma poi ci sono squadre che lo vogliono all'estero, ma il Sassuolo però prima di privarsi, questi sono quei giochini che si fanno, perché? Perché ci vuole il rialzo, perché se Locatelli fa un europeo con i controcavoli, come si dice dalle mie parti, il Sassuolo quando De Paul si presenta per prenderlo gli dice, avete visto che europeo ha fatto? Allora non bastano 40 milioni, ce ne vogliono 60, capite? Qual è la spada di Damocle dell'europeo? Ecco perché è importantissimo che la Juventus abbia le idee chiare, si muova per tempo e il lavoro di Cherubini, e il lavoro di Cherubini, va detto, non è dei più semplici, non è dei più semplici, perché inizia proprio la sua carriera di DS in concomitanza con un europeo, che ha sempre creato ostacoli nella campagna acquisti, perché ripeto, giocatori che magari tu, su cui puntavi molto, ti deludono, e magari non lo vuoi più, oppure viceversa, giocatori su cui puntavi, che fanno un grande europeo, il prezzo lievita, io mi ricordo quel Paillet che fece stravedere, no? Vi ricordate? Tutti volevano Paillet, Paillet che fine ha fatto, no? Quei giocatori, Krasic, Milos Krasic, fece un europeo stratosferico, venne la Juve, un giocatore penoso, inguardabile, per cui andiamoci molto cauti. La Juventus sicuramente i movimenti li farà, almeno uno in avanti e almeno due a centrocampo. Per quello che riguarda il terzino-sinistro, bisognerà vedere, perché ci sono tanti nomi, ma francamente, a me, adesso come adesso, dalle mie informazioni, non mi risulta che ci siano nessun tipo di trattativa in corso per nessun giocatore sulla fascia sinistra, sulla fascia destra, parlo della difesa, e centrale. A meno che, a meno che, Bonucci, venga richiesto dal Tottenham, e ci faccia, parlatici, un regalo, adesso che non è più il nostro DS, ci faccia un regalo incredibile che non ci ha fatto quando era DS, e ci porti via Bonucci, e magari con i soldi che prenderemo da Bonucci, perché Bonucci è a contratto, possiamo magari portarci a casa un difensore, magari più giovane, ma di qualità. Insomma, staremo a vedere. Il mercato è veramente nel mood, nel cuore del suo essere, io sto monitorando tutto quanto, ripeto, sono contento che i nomi sono sempre gli stessi che vi sto facendo da quasi un mese, addirittura io vi parlai di Icardi in una live di gennaio, pensate un po', quindi mi fa piacere che Icardi rimanano nel radar della Juventus. Vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento oggi pomeriggio alle 15 sulla piattaforma Viola, dove sarò in live per parlare di Juventus, di calcio mercato e di altro con i miei amici con ospiti. Poi stasera, se tutto va bene, se tutto va bene, incrociamo le dita, super live con super ospiti su questo canale alle 21. Ripeto, se tutto va bene, perché ci sono impegni e impegni da parte mia e da parte di altre persone, ma se tutto si sblocca, se tutto va ok, stasera alle 21. Non perdetevi la live che ci sarà. Fino alla fine Forza Juve, forever and ever, Hoover Halles, eterno di Juventus. Welcome back Max, welcome back.